La Cina ordina il divieto di utilizzo degli iPhone a tutti i funzionari governativi. Una scelta molto diretta, molto netta, come sempre accade in quel della Cina e che soprattutto porta con sé tantissime conseguenze. Partiamo da qua, soprattutto in particolare per noi appassionati di borsa e di mercati finanziari per i riflessi che si sono visti nelle ultime giornate sul titolo Apple che ha accusato ribassi significativi e può sicuramente incrinare la fiducia degli operatori per quanto riguarda il breve e medio termine. Ma qua ovviamente si possono aprire tantissime parentesi perché questa è una scelta simbolica in risposta ai vari divieti che comunque si hanno messo in campo precedentemente sia Stati Uniti che Europa verso la tecnologia cinese e che quindi di risposta ha visto appunto mettere in atto questo divieto ma che soprattutto mette lì ancora una volta un punto fermo per quanto riguarda l'obiettivo finale della Cina e cioè ottenere o meglio raggiungere un'indipendenza tecnologica da quelle che sono appunto le tecnologie straniere. Ecco che di riflesso si possono aprire qua, ma non è il caso e non ne parlerò, tantissime parentesi di natura politica e non solo. Io mi vorrei concentrare semplicemente su quelle che potrebbero essere le prospettive del titolo Apple. Ma partiamo da quella che è stata la notizia divulgata immediatamente dal Wall Street Journal attraverso questo articolo che vi faccio immediatamente vedere e che ha suscitato un vero e proprio scalpore in rete perché da lì poi sono iniziati a diciamo si sono riverberate in rete su tantissimi siti ulteriori approfondimenti notizie e non solo. Beh detto questo andiamo nel merito e cerchiamo di capire effettivamente che ripercussione potrebbe avere il tutto. Allora cercherò di seguire semplicemente una linea piuttosto semplice. Tre fattori. Il primo quanto pesa il mercato cinese per Apple? Andiamo a rivedere semplicemente riprendendo l'ultimo report della trimestrale pubblicata da Apple poche settimane fa. Come possiamo vedere dal PDF in sovraimpressione la Cina rimane la terza area più importante del mercato globale di Apple. Pesa circa il 20% delle entrate complessive globali di Apple e quindi chiaramente l'importanza di tale notizia è sicuramente significativa. Tra l'altro la crescita trimestre per trimestre è molto importante perché proprio se ci fate caso vedete che rispetto al 2022 ci sono state sicuramente delle entrate in crescita e questo ancora una volta acuisce quelle che sono i tanti articoli che stanno fiorendo in rete che si stanno appunto rivedendo in rete proprio per tali motivazioni. Il secondo punto che voglio trattare invece riguarda il simbolo che questa notizia ha e cioè ancora una volta acuire quelle che sono le tensioni tra Stati Uniti e Cina e al di là di quelli che sono i viaggi istituzionali dei vari funzionari statunitensi in Cina e viceversa ecco che poi le tensioni ancora una volta dati alla mano si riflettono in maniera molto importante. Questo è un ulteriore fattore che poi non coinvolge soltanto l'ambito finanziario ed economico ma a cascata anche l'ambito appunto politico e così via. Quindi sicuramente lì ma non sono io un esperto di politica e geopolitica e così via ecco che si potranno sicuramente approfondire tali tematiche anche altrove ma sicuramente è una tematica che di riflesso in ambito economico e finanziario avrà il suo significato. Il terzo ed ultimo punto riguarda i competitor quella che è per esempio Oneway che ha lanciato un ultimo smartphone 5G che ovviamente vuole sicuramente mettersi al passo competere alla pari con i prodotti Apple e sicuramente in Cina potrebbe avere la meglio andando a erodere il mercato cinese di Apple fatto vedere in precedenza dei numeri dell'ultima trimestrale. Attenzione tra l'altro tutta questa serie di notizie arriva in concomitanza di un altro evento e cioè quello che vedrà la luce dei nuovi iPhone e di altri prodotti nuovi per Apple la prossima settimana il 12 settembre con quello che è l'evento annuale di Apple. Sarà sicuramente un evento importante non soltanto per i consumatori di prodotti Apple che magari vorranno aggiornare i propri iPhone e così via ma semplicemente perché effettivamente se la bontà dei nuovi prodotti sarà tale da suscitare immediatamente un interesse dei consumatori in sé ecco che di riflesso i numeri per Apple per quanto riguarda le entrate potrebbero migliorare e il mercato potrebbe di conseguenza reagire a tale circostanza. Come sempre c'è un intreccio di tante variabili spero che sia chiaro quello che sto esponendo. Prima però di andare nel merito semplicissimo dell'analisi di un grafico in questo caso delle azioni Apple permettetemi di ringraziare MEXEM che è lo sponsor di questo video ci supporta e ci aiuta ancora una volta potete trovare in descrizione quelli che sono i link che vi riportano all'offerta attuale per il mese di settembre grazie alla collaborazione con la nostra community che vi possono offrire ben due anni di elaborazione fiscale grazie appunto al supporto completamente gratuito che vi concederà MEXEM e per quanto riguarda un ulteriore plus che è una coaching personalizzata di circa 30 minuti per quanto riguarda quella che è l'approfondimento della trader workstation la piattaforma di interactive broker che vi apre il mondo praticamente a tutti i principali asset finanziari. Ecco che ci riportiamo immediatamente sulla piattaforma per quanto riguarda un semplice grafico settimanale che vede appunto una ribasso importante nell'ultima settimana un'ultima candelina rossa ma semplicemente se ci soffermiamo con un grafico del genere degli ultimi 5-6 anni ritroviamo quotazioni su aree massi su aree di massi importanti sferati 200 dollari per azione una pullback una correzione è sicuramente sana e doverosa ecco che le circostanze che vi ho descritto in presidenza potrebbero comunque sia vedere un'ulteriore discesa da parte dei prezzi ma questa potrebbe essere semplicemente un'occasione poi per poter rientrare sul titolo a prezzi ben più a sconto rispetto agli attuali chiedo scusa e questo potrebbe offrire sicuramente nelle prossime settimane qualora ci dovesse essere uno scenario di questo tipo e se si svilupperà appunto uno scenario del genere con ribassi che magari potrebbero andare a far rivedere ai prezzi area 160-155 in primis o addirittura far testare l'area di supporto principale che possiamo notare dal grafico essere intorno a area 135 dollari per azione circa lo so è un ribasso molto importante e significativo per il titolo apple ma che comunque sia potrebbe riportare effettivamente le quotazioni su aree davvero interessanti adesso siamo a premio in quel caso magari potremmo essere leggermente a sconto per quelle poi che saranno chiaramente i nuovi aggiornamenti da quale prossime settimane trimestre per trimestre di apple e chiaramente vedere anche quelli che saranno gli sviluppi per quanto riguarda ancora una volta questa tensione tra stati uniti e cina tra apple e cina e non solo insomma come sempre non è forse in pericolo apple non direi che in questo caso la notizia delle ultime ore possa far cadere il titolo in una debacle incredibile questo no sicuramente però potrebbe fornire lo spunto per entrare a sconto è quello che cerchiamo di passare di infondere a tutti i nostri studenti che fanno parte del gruppo del percorso formativo se ti va se ti fa piacere essere seguito quotidianamente per quanto riguarda tutto quello che accade dal punto di vista economico e finanziario se sei un investitore o se sei un trader beh può cliccare nel link in descrizione per entrare a far parte di questo gruppo di studenti che nell'ultimo anno ha visto sicuramente stravolgere grazie al nostro lavoro ci sono io c'è giuseppe roccasalvo c'è il prof angelo ciavarella appunto come vi dicevo prima hanno visto letteralmente stravolta la propria visione di mercato in positivo e mi raccomando insomma chiudendo questo video le notizie sono calde e le tematiche sono ancora una volta calde ditemi la vostra all'interno dei commenti e come sempre mi raccomando se volete potete iscrivervi ai nostri canali social qua sotto trovate il tasso di iscrizione per il nostro canale youtube in descrizione trovate anche quello che il link che vi riporta direttamente all'interno del nostro canale telegram ufficiale e infine a me non resta che ringraziarvi ancora una volta augurarvi una buona giornata e attendervi al prossimo video Grazie a tutti